Ti guarderò da vicino, sempre, attraverso i tuoi occhi, fino in fondo al cuore, e quando sarai lontano saprò aspettarti, senza fretta. Ti difenderò, ti terrò compagnia, giocherò con te la tua famiglia, sarò la tua vista, il tuo olfatto, il tuo soccorso, la tua speranza, sarò il tuo grande amico. Quel giorno, quel cane, ha quel suo padrone, ma quell'amato padrone si accingeva ad abbandonarlo. Quel cane pianse per molti giorni, sperava che chi aveva amato più della sua vita tornasse indietro per ricondurlo a casa. Infine, rassegnato, affamato, estremato, pensò ancora una volta al suo amico, perdonandolo per quell'ultimo oscuro gesto. Quel giorno, quel cane, ha quel suo padrone. Se un giorno dovessi nuovamente incontrarti, non potrò odiarti, né servarti rancore. Camminerò ancora al tuo fianco, coltivando la sola speranza di essere considerato un essere vivente, quale io sono. Poi, quel giorno, quel cane, chiuse gli occhi, per sempre. Chi è la bestia? Chi è la bestia? Chi è la bestia?